io la vedo in una maniera leggermente diversa da questa nel senso si sentono tanti steamer dire io il mio personaggio abbiamo convivere e si pensa un po all'intrattenitore come poi ci stanno anche casi in cui è così come questo genio attoriale che si prepara davanti a live si mette il cerone da pierrot start a live e diventa un'altra persona per queste qualità incredibili d'attore di hollywood che ha io penso che sia leggermente diverso nel senso molti iniziano il web da giovani non è che interpretano un personaggio quell'eggi clamoroso al di sopra delle righe sono loro e semplicemente stando tanti anni sul web col tempo crescono e capiscono di non essere più così eggi e piano piano però continuano a fare l'imitazione dei vecchi se stessi e quella diventa io io li ti a piacere al vecchio pubblico è la che comincia ad assumere l'interpretazione però e poi diventa anche in alcuni casi un po comodo un po paraculo cominciare a utilizzare il personaggio come scusa perché poi diventa troppo semplice vabbè però era il personaggio ma poi l'ammazzio rovini pure è come se io l'ho detto un po' di volte in passato infatti vada quanto sono d'accordo con quello che stai dire perché è come se dopo un incontro del wrestling uno fa no ma comunque non fa finta cioè non è che col mic davanti a tutti all'interno dello stesso show oppure che cazzo ne sa teatro un gioco di magia un gioco di prestigio te posso fare un miliardo di esempi quindi è giustissimo quello che hai detto te ed è la stessa cosa che poi allo stesso tempo se te la giostri male muori come personaggio in tutti i sensi perché poi la stream muore sia il personaggio la credi cioè muore la l'emozione che tu senti quando vedi la performance perché ormai sai che è soltanto un personaggio muore la credibilità della persona quindi bisogna starci molto a te ma io sono d'accordo questa diciamo era la seconda parte del mio discorso sulla quale volevo interrogare tra virgolette simone cioè chiamare in causa simone nel senso secondo me sono entrambe le componenti da una parte la componente crescita che infatti ho menzionato prima cioè magari pensi anche meno hai meno responsabilità perché quando inizia meno pubblico anche noi giustamente all'inizio non avevamo la percezione del pericolo delle nostre parole poi succede un problema arriva la querela arriva la shitstorm ai danni di qualcuno anche non voluta però tu percepisci che queste parole hanno un peso eccetera cominci a non sentirti più in quei panni e diventa quello che dicevi tu cioè uno scimmiottare qualcosa che vuole il pubblico in secondo luogo alle volte secondo me questa facciata che si attiva non perché si parli di grandi attori ma perché nel momento in cui accendi la videocamera ti parte ovviamente una scintilla nel cervello in cui tu sei un performer alla fine poi di bassa lega o meno e alle volte rischi anche di confondere il personaggio con te stesso non a livello di spersonalizzazione tipo split però ad esempio i risultati che ottengo con questo personaggio quindi nel mio lavoro sono lo specchio dei risultati di davide quando non è così prego simone secondo me è quello che si può capire la maturazione la cosa l'ultima frase che ha detto prima che facciamo pausa è che è stato deleterio dal punto di vista lavorativo secondo lui poi sta sta cosa io vedo me e vedo tutti noi come dei ragazzi alla fine allo sbaraglio specie chi ha questa sorta di dualismo perché interpreta un personaggio ha tempiato per tanti anni un personaggio sul web io l'altra sera stavo pensando che appunto non esiste nel nostro campo magari la figura del manager cioè vuole fare un parallelismo magari con altri ambiti dove c'era già gente famosa da tanti anni fa che però non era abbandonata a se stessa come abbandonato a se stesso specie tante volte lo streamer che ne so un rapper che fa il singolo di successo che viene preso sotto l'ala di un discografico esperto dicemo ti preoccupare cioè ti creo il tuo personaggio pubblico te lo diciamo te lo innaffio io e vedrai che faremo successo così tu non ci devi pensare secondo me tutta questa mole di dover pensare all'immagine che uno dà di sé qualcuno sente il bisogno di dover ricordare che è un essere umano tipo io altri che io stimo se ne sbattono il cazzo e invece riescono tranquillamente a scindere per personaggio e persone quando vanno su altri canali sul loro canale sono macchine da guerra e si vede che non sono intaccati dal 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 suo problema del dualismo persona personaggio il fatto è che non c'è quelli che sono seguiti sono veramente l'un per cento e tutti gli altri sono abbandonati a loro stessi alle proprie decisioni che spesso non sono sagge proprio perché siamo tutti dei ragazzi più giovani che meno anche i giovanissimi lasciati tiè spesso hai la popolarità fai te però spesso si sbaglia spesso mettersi nelle mani di qualcun altro se vecchi la persona giusta che tiene realmente a te come persona e che capisce le tue esigenze una cosa però poi è pieno di storie agghiaccianti anche in quell'ambito là basti pensare che ne so ma quelli calciatori che hanno come manager eh il padre che poi lì in qualche caso in alcuni casi ha fatto del bene ma quelli di successo sono quelli che neanche te ne accorgi che hanno sto sistema di supporto capito quelli che hanno successo e basta è giusto dire anche che spesso mettersi nelle mani di qualcuno soprattutto in giovane età potrebbe anche renderti eh schiavo eh di una realtà che ti impone quella persona basti pensare a Britney Spears con la conservatorship ehm col padre che gestiva tutto e che gli richiedeva delle performance tutti i vari bambini prodigio però magari se lei avesse fatto immagina Britney Spears che dice vai fai successo nella musica senza cioè solo te pensa te a tutto io vorrei fare un'obiezione dove sarebbe arrivato vorrei fare un'obiezione o meglio un'aggiunta Simone giustamente diceva non esistono io direi esistono pochi manager che si occupano della parte di pochissimi lavoratori faccio un esempio però del nostro ambito Gischianto con Gischianto hanno provato a fare un'operazione similare quindi Hank ha preso Gischianto ha creato il suo brand quindi l'immagine di un certo tipo quella sorta di casa eh cibernetica eccetera lui dopo un po' è crollato è crollato è tornato a Napoli è stato prelevato tra virgoletto ovviamente in una buona operazione di costruzione del personaggio questo perché eh per rispondere a Simone perché è difficile vedere casi di persone che interpretano un personaggio comunque hanno un certo tipo di durata e ad un certo punto gli streamer sono costretti quasi a ribadire siamo esseri umani secondo me banalmente per il tempo davanti alla videocamera per il fatto che non ci sia un copione cioè ad un certo punto tu non puoi sostenere quel personaggio e questa è la differenza con un artista musicale tu puoi farlo anche in tutti i concerti cioè la di caga se veste così è quello lì una cosa bellissima dell'artista musicale anche attualmente che è l'opposto dello streamer è che l'artista musicale ne giova dal mistero esatto capito esatto streamer no non più a lungo andare muore quasi sì sì gli influencer in generale vabbè questo abbiamo detto a più riprese sono divenuti l'opposto dell'idolo diciamo fino agli anni 90 cioè quello che acquisisce carisma proprio perché lo vedi poco qualche foto o dal vivo se io vedessi calcutta tutti i giorni a stream ma a dire cose su esatto non sicuro che perderebbe qualsiasi forma soprattutto perché citato uno che ha un suo forte immaginario esatto magari altri e poi è un pischello normalissimo della tina capisci assolutamente sì assolutamente sì però nel caso degli streamer in particolare cioè chi passa tante ore davanti alla videocamera improvvisando perché già lo youtuber può farlo e me contro te sono dei personaggi come al cinema nei video youtube ma mica mica lo fanno in diretta per 14 ore esatto quindi ad un certo punto un gischianto che te fa una maratona infinita ce l'avrà la reazione forzata ricercata o istintiva e lo stesso il masseo e sul discorso economico è verissimo ragazzi nel senso che l'abbiamo detto a più riprese se avessimo voluto accontentare il pubblico sarebbe stato molto più facile cioè non devi perdere tempo dopo un po' si logora comunque il personaggio e diventano delle macchiette tristi come abbiamo visto anche in tanti artisti magari attori o non solo no pensate agli attori di zelig che magari molti sono rimasti a fare sempre quel personaggio che facevano a zelig nelle sagre della sarsiccia no i tormentoni e rottura di coglioni no anche per noi sarebbe stato più facile cioè continuiamo a andare così facciamo gli stronzoni super eggi le donne i ciccioni e questo e quello e quello e dai lo zuccherino e quelli brutti esatto è uguale il masseo se cioè lui avrebbe potuto tranquillamente continuare a fare capito un personaggio di questo tipo tant'è che negli ultimi anni ha detto io mi sono rotto il cazzo di far collegio ma ci faccio una barca di sordi quindi se volete pagatemi però vedi pure cioè però c'è da ribadire anche secondo me un'altra differenza sostanziale fra lo streamer medio e l'artista il performer nella maggior parte dei casi nel 90% dei casi da come penso io poi magari è una mia visione troppo estremista lo streamer non è un performer perché sta effettivamente facendo una performance sta portando una performance ma semplicemente porta cioè è se stesso davanti a una telecamera quando tu mi dici portare un personaggio interpretare un personaggio fare una performance un conto se è un musicista che ha una skill una sua preparazione e porta quello che ha studiato e che ha praticato su un palco un attore interpreta un personaggio lo ha studiato ha avuto una preparazione così nella maggior parte dei casi poi sono sicuro che ci sia anche streamer o youtuber che hanno fatto questo tipo di percorso nella maggior parte dei casi lo streamer nasce in maniera così per inerzia si piazza la videocamera la accende e comincia a purtroppo in tantissimi casi a portare i cazzi propri le proprie debolezze e i propri punti di forza anche di fronte alla telecamera quindi definire la performance e quindi poterla gestire così come gestisci una performance diventa complesso è complesso ecco Xiuder è un buon esempio invece Xiuder è un buon esempio di un performer che si mette là tutti i giorni c'ha quella facciata ogni tanto ovviamente pure lui c'ha le sbroccate però è così cioè proprio anche Lion Lion è l'esempio perfetto ma anche me contro te vabbè non sono streamer però Lion è l'esempio perfetto no sono d'accordo con te e infatti metto l'accento ancora sul fattore maturazione Simone l'ha detto mille volte ragazzi cioè non mi vedrete più fare quelle cose perché o non le penso più o non me va più o c'avevo un'altra energia sono cambiato no? Io sono questo cioè altrimenti lì sarebbe interpretare il personaggio del vecchio Dutubi sono d'accordo in certi casi è semplicemente la consapevolezza dettata dalla maturazione quindi ma davvero a 30 anni ancora devo fare queste cose soprattutto se non credo più a quello questo io per questo intendo performance poi come ti dicevo si mescola un po' perché il fatto che devi stare tante ore in live secondo me più che personaggio subentrano delle meccaniche malsane all'interno della piattaforma quindi magari non è tanto la separazione di io sono Masseo e io sono Edoardo ma sono Edoardo all'interno di questa bolla lavorativa che mi logora dopo lo dirà numeri competizione percezione di successo percezione di fallimento però come lo siamo tutti nel nostro piccolo però qui sei pubblico è quella la differenza certo però nel senso ogni settore ha un micro contesto pubblico quando tu lavori in banca vai in banca ti sei sulla scrivania con i colleghi con il direttore tu non sei il Davide di fuori tu sei il Davide dell'ufficio ma infatti è quello che dicevo è quello che dico sempre ed è per questo che non ho problemi a definire la performance lo ripeto l'intervista classica di Marlon Brando in cui diceva esattamente questo tu quando stai con i tuoi genitori stai recitando quando sei alle poste stai recitando è una sorta di meccanismo però la differenza è che in un lavoro di quel tipo come abbiamo detto a più riprese tu stacchi e un po' finisciti certo rimangono le ansie lavorative le cose però secondo me dire essere se stessi davanti alla telecamera non significa niente cioè proprio per questo discorso che non puoi essere quasi impossibile diciamo che è un controsenso è un controsenso perché vabbè è una parte di te poi si dice la performance obbligata che è questo non poter essere se stessi e la performance consapevole che quello è l'attore che va recitando di Caprio che si mette e dice adesso però questo certo certo grazie a tutti Grazie a tutti.